Parla tifoso azzurra. Benvenuto su Napoli News Channel, la tua fonte affidabile di informazioni su clube napoletano. Oggi abbiamo alcune notizie importanti da condividere con voi, che riguardano un possibile potenziamento della difesa del Napoli. Scopriamo di più su questa storia. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un napoletano nel cuore. Secondo quanto riportato da tutto mercato web, il Napoli sta adocchiando Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, che sta attirando l'attenzione di diversi club. Dopo il rinnovo del contratto nelle ultime settimane, il valore di mercato del giocatore è aumentato notevolmente. Ora si stima che valga non meno di 50 milioni di euro. Scalvini è un difensore di talento ed emergente noto per le sue capacità difensive e le sue capacità di leadership in campo. La sua presenza sarebbe una grande aggiunta alla rosa del Napoli, rafforzando ulteriormente la difesa della squadra e fornendo sicurezza nella linea di fondo. La ricerca del difensore mostra la determinazione del Napoli a rafforzare la squadra e competere ad alto livello. Il club è disposto a investire per garantire la qualità necessaria per raggiungere i suoi obiettivi. Stiamo seguendo da vicino l'interesse del Napoli per Giorgio Scalvini, talentuoso difensore dell'Atalanta. Con un prezzo di mercato fissato a 50 milioni di euro, il suo acquisto sarebbe sicuramente un investimento significativo. Tuttavia, il direttivo del Napoli sta dimostrando ambizione e volontà di rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli. Resta sintonizzato su Napoli News Channel per gli ultimi aggiornamenti su questo potenziale accordo e tutte le notizie relative al club. Con Scalvini o con altri rinforzi, speriamo che il Napoli faccia grandi cose e porti gioia ai suoi tifosi. Forza Napoli sempre!